numero 5 il gruppo di continuità max on con batteria integrata da 800 va consente di mantenere temporaneamente attivi e funzionanti i dispositivi elettronici in caso di spegnimento dell'alimentazione principale collegando l'hardware a una delle tre uscite alimentate dalla batteria si recupera tempo prezioso per salvare il lavoro o i progressi del gioco e per spegnere in piena sicurezza l'apparecchiatura dopo un'interruzione di corrente permette anche la protezione da sovraccarico e cortocircuito in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 4 l'ups per la casa i negozi gli alberghi la soluzione ottima per garantire un'alimentazione sicura e di alta qualità a modem router smart tv sistemi di intrattenimento domestico post del negozio console di gioco è dotato di un caricatore usb per ricaricare smartphone o tablet quando non c'è alimentazione elettrica o è di scarsa qualità l'ups continua a fornire tensione tramite la batteria e si spegne se la mancanza di tensione della rete supera il tempo di autonomia se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 neon è l'ups line interactive dal look accattivante che si adatta perfettamente a qualunque periferica hai bisogno di proteggere a casa come in ufficio disponibile in tre diverse taglie di potenza fino a 1000 va è in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente garantendo sempre il tempo necessario per terminare una sessione di gioco completare un lavoro al computer o spegnere i tuoi dispositivi correttamente in tutta sicurezza senza alcuna perdita di dati l'interruttore automatico fornisce una protezione aggiuntiva ai dispositivi connessi intervenendo in caso di sovraccarichi o cortocircuiti trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 viene fornito con un cavo d'ingresso fisso e due uscite sciuco questo modello offre la massima protezione contro la sovratensione la sottotensione e la mancanza di corrente dispone di tecnologia line interactive plus ed è dotato di un pulsante on off e di un led multifunzionale integrato con allarme sonoro per indicare lo stato di funzionamento del sistema è progettato per proteggere computer desktop registratori di cassa modem e router registratori di videosorveglianza e così via il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 questo modello offre protezione contro le fluttuazioni di potenza e le micro interruzioni per tutti i dispositivi elettronici con recensioni positive dei clienti offre caratteristiche come la regolazione automatica della tensione caratteristiche di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia è dotato del software power shoot personal edition che insieme al backup della batteria fornisce una soluzione ottimale di protezione dell'alimentazione acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione www.baz. noktale.org saw early això a caselle tar sports